Neri Marco Re, l'anno scorso al B-Fest protagonista di Quando, quest'anno di nuovo al B-Fest, questa volta regista e anche attore della tua opera Prima Zamora. Innanzitutto, com'è stata ieri la reazione, la standing ovation che hai ricevuto dopo la proiezione? Beh, è stata una meraviglia perché è stato il coronamento, diciamo, è la prima volta che è un pubblico italiano perché in realtà questo film ha già partecipato a un festival in Francia e anche lì insomma era andata molto bene. Però ovviamente io ero curioso di capire quale sarebbe stata la reazione del pubblico italiano e qui al B-Fest anche l'anno scorso ero contentissimo di aver partecipato come attore, di aver ricevuto il calore del pubblico barese e non magari appunto perché immagino che vengano anche da tante altre parti. È un festival molto caldo, molto popolare e questo è proprio bello e quindi questa reazione di ieri non dico che ci ha sorpreso perché sapevamo un po' tutti di aver fatto un buon lavoro e però ecco poi non si sa mai come verrà colto e che ieri abbiano colto invece che il pubblico abbia colto tutte le sfumature sia quelle di comic che quelle che portano alla maggiore commozione o anche significati che passano insomma i messaggi che passano da questa storia di Zamora è stato insomma di grande soddisfazione e conforto perché uno lavora per il meglio e spera che tutto quello che semina arrivi a fiorire e a sbocciare. E questo ieri appunto abbiamo avuto riscontro del successo di questi elementi che sono arrivati a destinazione. Senti, grande rivelazione Alberto Paradossi che tra l'altro è stata la sua prima esperienza da attore e protagonista. Come si è arrivato a lui e come, essendo poi tra l'altro giovane diciamo negli anni 60, ho fatto la stessa domanda prima anche a lui, lui non era ancora nato. Come gli hai raccontato quel periodo? Come l'hai preparato? Allora, innanzitutto, ovviamente io alcuni ruoli li ho assegnati già mentre stavamo scrivendo perché avevo in testa insomma alcuni attori con i quali volevo lavorare. Alberto non lo conoscevo quindi è stata Barbara Giordani la casting che mi ha proposto ovviamente lui e altri attori e attrici insomma per gli altri ruoli. L'ho scelto perché nel provino mi sembrava, mi sorprendeva anzi in alcune sue espressioni anche, rilanciava ciò che io magari mi aspettavo da quel personaggio, però mi sorprendeva anche in levare. E quindi ho pensato subito che potesse essere lui che aveva anche questo volto anche antico, no? Volendo, quindi che poteva ben conformarsi all'atmosfera degli anni 60. Poi è dotato, pur essendo insomma nella vita non è per niente impacciato, ma ha degli impacci, delle cose che secondo me erano perfette proprio per esprimere il personaggio di Walter Wismara. Quindi io sono veramente felice, gli auguro tanto successo, ma non soltanto a lui ovviamente nel film ci sono anche altri e altri volti, nomi insomma di attrici, attori che in Italia veramente siamo pieni di talenti, che però non sempre si ha la curiosità di andare a scoprire. A me piaceva al di là di tutto anche dare l'opportunità, come è successo a me con Pupia Vati più di vent'anni fa e con il cuore altrove, dare la possibilità a nuovi volti, nuovi attori, attrici di mettersi in luce, di avere la possibilità di esprimere il loro talento. Alberto l'ha fatto in maniera incredibile, ma così come tutti gli altri, anche se magari nel film ci sono ovviamente anche attori e attrici che hanno fatto già molte altre esperienze. Però per dire un altro c'è anche il personaggio di Dorina, interpretato da Giulia Gonella, anche lei al suo esordio, che insomma ho scelto da un self-tape per dire. Quindi insomma mi è piaciuto dare anche l'opportunità a chi magari aspetta questa occasione per potersela giocare e loro se la sono giocata benissimo. Poi sul lavoro che si fa, ovviamente si confronta, alcune cose si ripetono, si mettono a punto, ma questo fa parte del lavoro proprio della recitazione, della regia che deve dare un indirizzo e tirare fuori quello che si aspetta da quel personaggio e da quella storia. Un'ultimissima domanda, avevi pensato già a te per il ruolo di Cavazzoni? Allora, in realtà se volessimo scavare indietro questa è una storia che poteva nascere già, è un film che poteva già nascere vent'anni fa, nel quale io avrei dovuto essere il protagonista. Poi sono successe altre cose, quindi nel ruolo di mentore mi vedo sempre molto bene, nel senso che mi piaceva, però l'altra possibilità poteva essere quella dell'antagonista, quella di Gusperti che è stato interpretato mirabilmente da Walter Leonardi. Però tra i due sì, pensavo di poter esprimere maggiormente anche appunto per differenza d'età, questo ruolo di uno sportivo caduto in disgrazia per errori fatti appunto in passato e che ora è piombato nei debiti, nell'alcolismo e che grazie anzi all'amicizia con il protagonista potesse tirarsi su come io poi a mia volta aiuto lui a tirare fuori la propria voce, a trovare la propria identità. 4 aprile, Zamora, tutti al cinema. Grazie.